bella raga qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi vi faccio vedere il metodo per recuperare ragazzi l'avenger moddato per chi ancora non ce l'ha per chi ancora non lo possiede se qualcuno già lo possiede schippate questo video e guardate quello in descrizione ragazzi quindi come si fa a prendere l'avenger in questo metodo ragazzi niente di più semplice prendete il vostro avenger con il conto com ragazzi non vi sto a spiegare il conto com perché è già un po che attivo vi lascio in descrizione il glitch del conto com se non siete capaci a farlo requisiti per fare questo glitch raga ovviamente i requisiti per il conto com e poi ci servirà l'hangar senza avere mai visto il video iniziale se avete già visto il video iniziale o avete comprato l'avenger raga non potrete fare questo glitch quindi ragazzi una volta che abbiamo come requisiti avenger base operativa abbiamo fatto conto com e abbiamo l'avenger moddato che ci ha passato un nostro amico nel com possiamo iniziare ma prima raga vi voglio informare perché ultimamente mi hanno scritto parecchie persone gli account in promo a 30 35 20 euro non ci sono più ragazzi gli account adesso costano dai 40 ai 60 euro siccome il metodo non c'è più il prezzo è aumentato quindi ragazzi a questo punto una volta che abbiamo preso l'avenger e ce l'abbiamo nel com cosa facciamo semplicemente andremo a riavviare raga gta 5 una volta che abbiamo riavviato il gioco siamo spawnati in free mode in una sessione solo a inviti mi raccomando così siete tranquilli ragazzi aprite il vostro menu interazione e andrete a richiedere il veicolo personale del com una volta che avete richiesto veicolo personale del com e pregate che vi spawni bene perché se non veicolo personale potrebbe spawnarvi malissimo esplodere istantaneamente ragazzi se succede lo richiamate non vi preoccupate se non vi spunta subito dal com raga bisognerà attendere un minuto e venti comunque a questo punto andremo a diriderci verso il nostro hangar ragazzi che vi ricordo come ho detto all'inizio del video deve essere nuovo bisogna che non avete mai fatto il video intanto ragazzi voglio ringraziare alessieto ringraziamo tutti quanti soraya per questo metodo perché adesso vi spiego una cosa questo metodo è un po particolare potrebbe succedere che a questo punto si blocca il glitch infatti a me col mio account personale raga da qua in poi mi sono bloccato e non c'è verso su alcuni account questo metodo non funziona e non si sa il motivo quindi ragazzi una volta davanti l'hangar dovete spammare freccia destra e a contemporaneamente il risultato dovrà essere questo vi farà questa animazione una schermata nera per un qualche secondo e poi vi farà entrare all'interno dell'hangar ragazzi come ben vedete e sbada bam se invece raga rimanete bloccati nella schermata nera è perché non avete l'hangar nuovo oppure avete già visto il video dell'hangar quindi a quel punto potete pure buttare via la venger capite nel com perché non c'è modo di salvarlo se vi fa la schermata nera a questo punto invece per chi è arrivato qua e alla venger dentro l'hangar messo in questa maniera possiamo continuare quindi molto semplicemente saliamo sul nostro avenger moddato che abbiamo appena inserito nell'hangar e andremo a farci una qualsiasi modifica ragazzi fate pure quella che costa meno senza andare ovviamente a smoddare il vostro avenger a questo punto una volta fatta la modifica scendete dall'avenger a piedi e uscite dall'hangar a piedi una volta fuori aprite il vostro menu interazione andate su veicoli andate su velivoli e una volta che siete su velivoli andate a richiedere il vostro avenger ragazzi dai velivoli come vedete da questo video a questo punto una volta abbiamo richiesto l'avenger e ci è spawnato ragazzi fuori dall'hangar dovremo andare a comprare effettivamente l'avenger originale quello che sta dentro la base operativa quindi andiamo su warstone ragazzi dal sito e andremo a comprare l'avenger lo compriamo e in questa maniera raga ci spawnerà direttamente vicino come potete vedere laggiù c'è l'avenger originale adesso cosa facciamo apriamo il nostro menu interazione andiamo su avenger quindi servizi avenger opzioni di spostamento e controlliamo che ci sia lo slot hangar ragazzi no base operativa a questo punto torniamo indietro schiacciando bio cerchio e ma rimandiamo il veicolo personale al deposito che in questo caso raga è l'avenger moddato perché è un velivolo personale quindi una volta che abbiamo rimandato l'avenger moddato al deposito raga e a quel punto rientriamo all'interno dell'hangar una volta all'interno dell'hangar saliamo sull'avenger moddato e rifacciamo una qualsiasi modifica la meno dispendiosa raga una volta fatto ciò cosa dovremo andare a fare semplicemente apriamo il nostro menu interazione andiamo di nuovo ragazzi su avenger e facciamo opzione di spostamento e mandiamo l'avenger all'hangar lo rimandiamo al deposito a questo punto cosa facciamo saliamo sull'avenger originale che come ben vedete sarà già moddato appena lo rimandiamo dentro raga sarà già moddato adesso cosa facciamo prendiamo il nostro avenger moddato che è quello originale non vi confondete ci facciamo una modifica raga per salvare il tutto per sicurezza e usciamo fuori dall'hangar adesso raga apriamo il nostro menu interazione andiamo su servizi andiamo su avenger e mandiamo al deposito l'avenger tramite base operativa vi mettete anche il rientro alla base operativa e a questo punto il vostro avenger andrà al deposito e vi farà scendere in automatico fate start online trova nuova sessione oppure vi teleportate con il teleport usando anawak e una volta che siamo alla nostra base operativa potremmo dire e sbada bam ragazzi avremmo l'avenger moddato all'interno della base e ce ne sarà anche un altro dentro l'hangar ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un like per supportare il canale ragazzi abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima e niente alla prossima sbada bam mi raccomando raga i like sono sempre ben accetti per far sì che i video vanno tra i consigliati alla prossima ciao